Benvenuti al recap del Rapid Chess Championship, questa è la seconda settimana. Luca, qual è la partita del giorno? La partita, o meglio il match di giornata, è la finale tra Fabiano Caruana e Icaru Nakamura. Finale pazzesca per tutto quello che è successo. Icaru, avendo vinto il girone di andata, il girone del sabato ha avuto il bianco nella partita. Ricordiamo che la prima partita è Rapid, si gioca il match su partita secca, in caso di parità si va direttamente a una blizza, colori invertiti, in caso di parità poi si gioca la bullet e in caso di parità c'è un Armageddon. Esatto, quindi dal 10 più 2 sono passati al 3 più 2. Esattamente, cosa è successo nel 10 più 2? Adesso vediamo che Fabiano ha il bianco contro Nakamura, perché Nakamura, la partita con il bianco, ha deciso di giocare 4-5, calo F3, calo C6, solfiere B5, calo F6, arrocco corto. Entra direttamente nel berlino. Quindi esattamente nella stessa posizione, con Nakamura che giocava col bianco, soltanto che Nakamura ha giocato arrocco corto, a differenza di Fabiano che poi andremo a vedere. E qui Caruana, no? Entra proprio nella variante della berlinese. E dopo D4, cavallo D6, Icaru mangia in E5, D per E5, sacrificando temporaneamente questo pezzo, cavallo per B5. Ma dopo A4, il cavallo in trappola è conosciuta come linea perché dopo cavallo Bologna D4, cavallo per D4, il nero gioca D5 prima, e su E per D6, cavallo per D4, donna per D6. E la teoria dice donna E4, donna E6, donna D4, donna D6, donna E4, donna E6. Patta teorica! Tutto successo in 30 secondi. Esatto. E questo faceva parte della strategia di Nakamura, Luca, che voleva ridurre il tempo contro Fabiano Caruana. Esattamente, voleva batterlo Blitz, dove Icaru è comunque forte, Fabiano è meno forte. Chiaramente butta il bianco, si gioca la Blitz con il nero, con risata annessa di Fabiano, che quando si è visto il perpetuo ha capito la strategia di Icaru. A fine partita si è messo proprio a ridere. E nella Blitz, invece, si rigioca un berlino, stavolta Icaru con il nero, con Fabiano che non gioca la stessa linea di patta, perché Bullet non ci sarebbe stata partita. Ma Fabiano con cattiveria, proprio con la voglia di dimostrargli che la strategia è stata quella scorretta, perché comunque Icaru ha deciso addirittura di giocare con il nero, al posto che con il bianco, in una partita secca, pur di giocare Blitz. E Caruana mette una partita devastante. Intanto gioca D3, quindi evita tutte le linee, no? Super teoriche, con cavallo per E4. E qui ha il filo C5, Luca. Gioca quello che è il berlino, D per C6. Adesso non si può mangiare in E5 per cavallo D4, questo è un trucco del berlino. Per donna D4, subito minaccio Matto, minaccio il cavallo e vinco immediatamente. Quindi il bianco prosegue con alfiere G5, il nero gioca alfiere D6, difende il pedonino E5. Questa è una posizione molto manovrata, dove il bianco ha ceduto la coppia degli alfieri, il nero ha una doppiatura in C6, vuole arrivare in C4 con il cavallo. Ma la partita è diventata subito molto dinamica, perché il caro gioca alfiere E6 e il bianco gioca D4. Sfruttando il fatto che sulla cattura in D4 arriva una forchetta in E5, anche con l'inchiolatura sulla diagonale del cavallo, quindi chiaramente il nero non poteva mangiare. E il nero cosa decide di fare? Allora, gioca H6, attaccando l'alfiere, così su un'eventuale presa in F6. Dopo donna per F6 si difende il pedone in E5 e quindi il bianco gioca alfiere H4, mantiene il controllo sulla diagonale e il nero gioca questo alfiere G4. Molto interessante perché difende il pedone in E5 indirettamente, quindi non controlla la casa in E5 ma toglie l'opzione cavallo per E5, quindi su una cattura di pedone si può rimangiare di alfiere tranquillamente e tutto a posto. E qui il cavallo arrocca. Molto interessante arrocca perché il nero ha dovuto subito prendere una decisione come G5 perché se una mossa come E per D4, che può sembrare logica adesso perché sulla forchetta E5 adesso possiamo mangiarlo, sfruttando ancora il fatto che il cavallo in F3 è inchiodato, il bianco può giocare torre 1 sulla colonna E, puoi difenderla alfiere ma prima o poi lo perderai, puoi fare donna D6, ti arriva cavallo in C4, non riesci a difendere tutto su questa colonna e perdi un pezzo. Per cui arriva G5. Esatto, G5, la semplice alfiere G3 che adesso attacca una volta in più di E5, quindi D per E5 una minaccia, ancora una volta non si può mangiare in D4 per la forchetta, alfiere N5 controlla. E quindi il nero gioca la semplice cavallo D7. Cavallo D7, qui arriva una continuazione pazzesca di Caruana che prima gioca H3, si fa mangiare in F3, mangia di donna. Su donna E7 gioca cavallo C4, lasciando il pedone D4 in presa. La posizione si sarebbe potuto ottenere anche dopo la presa in D4 subito, la cattura in D4 però c'era E5 immediatamente, ancora sfruttando il fatto che questa colonna E è molto pericolosa e questi due pedoni non sono importanti tanto quanto un pezzo ovviamente. E quindi il nero non può ancora mangiare questo pedone, gioca donna E7 e dopo cavallo C4 decide in questo momento di mangiare in D4 perché sulla spinta in E5 non si mangia il pedone in E5, sempre perché dopo tutte le catture possiamo farlo vedere. Arriva, si cambia tutto, arriva torre 1 con, anche cambio in E5 prima proprio. Ah, ancora meglio, si ha ragione. Semplice, semplice, con vittoria. Su E5 avrebbe giocato alfiere C5 probabilmente, spostandosi, poi arroccando lungo magari tenendosi il pedone in più. Ma Fabiano gioca molto concreto, nella linea strana, gioca cavallo per D6, che sistema parzialmente la struttura pedone nel nero che gioca C per D6. Attacca il pedone in D4 con torre D1, molto tranquillo, ma Nakamura gioca cavallo E5, attacca la donna. Sì. E su un'eventuale cattura in E5 si rimangia di pedone, si protegge il pedone D4, si ha un pedone in più e si vince la partita. Ma arriva donna F5 del bianco. F5 è in una casa molto fastidiosa, sul bianco... Impedisce anche un eventuale arrocco lungo da parte del nero. Esattamente, quindi molto, molto fastidiosa. A questo punto ti chiedo, ma cavallo E5 era necessaria? Col senno di poi avrei arroccato lungo, però sì, arrocco lungo magari dopo torre per D4, cavallo E5. Però comunque il bianco sta bene, può giocare donna A3, poi raddoppia sulla D. È molto, molto rischiosa la posizione del nero. Al E5, tra l'altro, Blitz è la mossa più logica, no? Anche perché il nero ha giocato C5 e tutto sommato ti sembra di stare molto bene, no? Magari la prossima è donna E6, cambia le donne, ha un pedone in più. E invece arriva C3 da parte di Fabiano, Luca. C3 che può sembrare una mossa un pochettino strana, perché dopo la cattura in C3 giocata da Nakamura, quando si riprende in C3, sì, bene o male, dopo B per C3, il nero è molto solido. Ma Fabiano, senza pensare, in realtà forse ha pensato un pochettino, che ha capito che D per C3 era l'errore decisivo di Nakamura, perché dopo torre per D6, dopo donna per D6, arriva alfiere per E5 con attacco doppio. Donna, torre, con partita completamente persa per Nakamura, che gioca cavallo C4 per complicare un po', ma donna per C5 di nuovo. Lascia la torre in presa, dopo cavallo per D6, alfiere per D6, qui il nero è anche sfortunato perché gioca donna E5, donna E6, ma dopo scacco in B5, non può parare di donna con donna D7, perché dopo donna E5 scacco, mangio la prima torre, mangio la seconda torre, faccio strike e vinco la partita. Quindi deve giocare re D8, ma possiamo già immaginare che con questo re in D8 la situazione è critica. Il bianco gioca la semplice alfiere E5, attacca la torre. E si prepara ad arrivare anche con la torre sulla colonna, torre E8. E qui, molto precisa, donna per B7, Luca. Donna per B7 che minaccia la semplice torre D1 matto. E anche donna C7 è matto. Qui Nakamura deve pararne troppi di matti, ne para uno, ma ecco gli arriva donna C7 da parte di Fabiano e lui no, proprio. Insomma, l'abbiamo visto in video abbastanza disperato qui. Cosa ne pensi, Luca, di questa partita? Cosa possiamo imparare? Non dobbiamo mai prendere nessuno sotto gamba. Probabilmente Nakamura era troppo sicuro di sé. Essere ottimisti, essere sicuri di sé, in realtà è un grande pregio. Ce l'hanno tutti i giocatori al top, Nakamura, Kars, anche stesso. Sono sempre molto fiduciosi e pensano sempre di riuscire a ottenere il risultato perché sono forti. Però bisogna sempre essere ottimisti, ma non troppo, perché sennò poi si perde l'oggettività, no? E invece Fabiano, questa partita ha proprio dimostrato che quando l'avversario ti dà proprio l'idea di... Non dico non rispettarti, ma di dire ok, ti batterò di sicuro. Fabiano ha detto ok, adesso gli dimostro che non è così e poi alla fine l'ha massacrato. L'ha proprio massacrato. C3, torre per D6, donna F5, tutte le mosse sono state davvero di una qualità incredibile. E ha vinto in 25 mosse contro i Karo Blitz, che è una cosa che non penso in tanti siano mai riusciti a fare. Quindi ottima lezione da parte di Fabiano Caruana, che vince la seconda settimana del Rapid Chess Championship. Se vuoi vedere altri video recap, clicca sul video qui al lato ed iscriviti al canale per ricevere aggiornamenti sulle prossime diretta.